Non so se qualcuno di voi ha già fatto l'albero di Natale perché fino all'anno scorso ci avete leggermente gonfiato con le palluccelle che già noi non abbiamo fatto la brinata, quindi già l'anno scorso di questi periodi le palle oltre a stare sull'albero stavano anche da un'altra parte più gonfie del solito. Senti, se io ho cominciato a fare l'albero o quelli che lo faranno in maniera imminente oppure più l'allotto diciamo quando si sta a fare o dovremmo comportare che luce in coppa l'albero. Chissà se non è l'anno passato l'anno fa che i bulletti erano ancora accessibili chissà se non è andato tutto questo, già immagino che fanno l'albero, ma se luce ce l'hanno a mettere nel forzo se luce in coppa l'albero e fanno l'albero senza luce. E' un pochino che stanno allucinando, e' un pochino con una casa, e' un bello l'albero, e' un pochino che c'è la vita e la c'è fatica mia moglie, e' un pochino che mi ha divertito. E' un pochino di luce, fammi vedere come fanno. e' un pochino, e' un pochino che ti piace, e' un pochino che non è così, e' proprio che c'è l'uomo. L'anno passato mi piace, e' un pochino che mi ha fatto con le comande a mano, e' un pochino che c'è la luce, e' fissa, e' fissa. Vedete che c'è qua, quando c'è tutto l'effetto bellissimo che c'è qua, e' un pochino che stanno, alberi spenti, senza niente. C'è una piccola, e' un pochino che c'è, e' un pochino che c'è la cerni, e' un pochino che c'è la terra, e' un pochino che c'è l'albero. passata sotto al labbra, se mettevo treni o chissà mette i melumi, perché il lambatino secondo me chissà a voi ci scudo, ok? Ciao ciao